Il Panathlon Club Modena conclude il suo 2022 al Teatro Storchi con la tradizionale festa degli auguri, una serata di sport e solidarietà ma anche di arte e bellezza. Dopo una spettacolare esibizione di danza aerea a cura delle ragazze di Equilibra, il canto è stato protagonista della parte centrale dell'evento, con l'omaggio alla grande Raina Cabainvasca, le voci di Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini e ancora di Aaron Borelli che ha eseguito alcuni dei brani che l'hanno reso celebre nel mondo del musical. A Borelli, fondatore di Mumo Arts Academy, il Panathlon ha consegnato poi un defibrillatore, dispositivo salvavita donato a una delle prime scuole nel modenese di arti performative. A partire dal 2008 Panathlon ha donato in vari progetti di solidarietà oltre 275 mila euro, in particolare sul fronte sport e disabilità. Lui ha aperto una nuova palestra, ancora non aveva il defibrillatore e così abbiamo provveduto. Ma abbiamo confermato cinque progetti speciali che da anni seguiamo e grazie alla presenza di un donatore molto generoso siamo riusciti a confermare tutti i cinque progetti che partono da Simmartin, che partono da Equilandia, che partono da MOBA, il gruppo Basket e ancora il gruppo Arcobaleno. Insieme si può. Insomma abbiamo confermato cinque progetti importanti e questi progetti per tutto l'anno 2022-2023 potranno proseguire l'attività. E ancora abbiamo confermato tre borse di studio ai ragazzi che escono dal liceo Tassoni sul liceo sportivo. Quindi è una serata piena di solidarietà. In questo tempo delle canterroni la terra si fa...